A sformerà, porta di giorno la preghiera, di risperanza più non ha. A sformerà, porta di giorno la preghiera, di risperanza più non ha. A sformerà, porta di risperanza più non ha. A sformerà, porta di giorno la preghiera, di risperanza più non ha. Il franziano, il franziano, è un grande maestro. A sformerà, porta di giorno la preghiera. 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 A sformerà.